Ciao, sono Alfonso, sono di Cilignola, liceo scientifico Albert Einstein. Ho scelto il corso di fotografia perché mi piace molto fotografare e attraverso le foto riesco a trasmettere tutte le mie emozioni. Ciao, sono Chiara, sono di Napoli, vengo dal Quinto Razio Palacqua di Portici. Prevento il corso di fotografia e ho deciso di partecipare a questo corso perché già l'ho fatto l'anno scorso e mi è piaciuto tanto e pensavo di poter arricchirmi da questa esperienza. Un saluto a tutti e mi sto divertendo davvero tantissimo, il festival è bellissimo.